Con il numero 22, Emei Pazzacane! Con il numero 23, Marcello Borghi! Con il numero 27, Michael Pazzacane! Con il numero 32, Pietro Borghi! Con il 37, Donia Pedoni! Con il numero 55, Alessio B. Romozzo! Con il numero 69, Alex Bertin! Con il numero 61, Lorenzo Pincenelli! Con il numero 88, Riccardo Privitera! Con il numero 90, Adamo Mardetti! Con il numero 91, Emei Pazzacane! E con il numero 87, Daniel Osteri! Il nostro dettore, Luther, Deveza! Pampolo Giornalino, facciamoci sentire! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!